Dobbiamo dare una bella notizia per tutti i cittadini di Serra Monacesca, ma direi anche per tutti quelli della regione Abruzzo, che sono appassionati di opere d'arte e di bellezze naturalistiche. L'abbazia di San Liberatore tornerà ad essere fruibile, in particolare la strada di collegamento, che era interessata da una frana. Nel 2020 portai in Consiglio regionale una risoluzione per stanziare dei fondi necessarie a rimettere a posto quella strada che in questo momento consente soltanto un senso unico e continua a deteriorarsi sempre di più con eventi atmosferici contrari. Ora la provincia di Pescara, la notizia è di oggi, ha determinato l'aggiudicazione dei lavori, circa 100 mila euro di lavori, per rimettere a posto la strada che consentirà il doppio senso di circolazione, ma soprattutto consentirà di ripristinare una viabilità in sicurezza per l'abbazia di San Liberatore a Maiella, che rappresenta un gioiello della Val Pescara e di tutto quel versante della Maiella, meta di tantissimi turisti, ma anche meta di tantissime persone che vanno, scelgono San Liberatore per sposarsi. Ciò che diciamo oggi è, parliamo naturalmente dell'aggiudicazione dei lavori, adesso partiranno questi lavori e probabilmente per maggio o giugno l'abbazia sarà pienamente raggiungibile da tutti gli abruzzesi.